A Santa Croce in Gerusalemme per la rassegna per il cinema italiano, giunta ormai alla seconda settimana, quella dedicata ai grandi restauri della Cineteca Nazionale, questa sera abbiamo veramente un restauro d'eccezione. Un film leggendario nella storia del cinema italiano per le reazioni, spesso anche stizzite, strane, che ebbe all'epoca, per un equivoco finalmente risolto sul titolo, per una vita l'abbiamo chiamato Deserto Rosso, in realtà si intitola Il Deserto Rosso, e per parlare di questo restauro abbiamo qui la persona che l'ha tecnicamente seguito, ovvero il grande direttore della fotografia Luciano Tovoli, che peraltro con Antonioni ha lavorato a lungo per film successivi. Quindi Luciano, prima di tutto raccontaci un po', senza paura di andare nel tecnico, le problemi, difficoltà, sfide creative, che questo restauro di un film che all'epoca non avevi illuminato tu, alle quali ti ha messo di fronte. Certo, il film ha un'importanza dal punto di vista dell'impiego del colore, cioè questa visione di Antonioni e di Di Palma, l'impiego drammaturgico del colore, è una funzione fondamentale, diciamo abbastanza anticipatrice nel cinema, quindi insomma è un film abbastanza eccezionale da quel punto di vista, per cui la difficoltà soprattutto è stata quella di individuare una maniera di avvicinarsi a questo restauro, al di là delle meccaniche diciamo necessarie per arrivare a un buon fine, è il problema stilistico, cioè fino a quanto intervenire, oggi le possibilità sono veramente innumerevoli, insomma noi potremmo, insomma, ma guai, cioè stabilire questa soglia diciamo è stata per me la difficoltà, perché naturalmente un lavoro appassionantissimo, quando mi è stato proposto della Cineteca ho fatto Balsi di Gioia, perché insomma andare a mettere un pochino le mani nel lavoro di Michelangelo Antonioni, con il quale io lavorai poi 12 anni dopo, il film è del 64, io lavoravo per la prima volta nel 72, e poi di un grandissimo artista e collega come Carlo Di Palma, cioè veramente era in qualche modo stato anche uno dei più bei riconoscimenti, diciamo, quindi io venivo dalla Dispoli, sono venuto circa un mese al laboratorio con il colorist Lorenzo, a fotocinema, e sapevo che mi aspettava questa sfida, queste immagini così innovative, dove magari una strada, una parete più grigia perché è stata dipinta, l'altra invece è rimasta normale, allora tentare di capire quel grigio fino a che punto fosse possibile spingersi senza perdere l'altro momento di realtà, che in qualche modo Antonioni aveva voluto così mixare, mettere insieme. e quindi siamo andati estremamente cauti, perché quello ci è avuto molto tempo, e di particolarità tecniche, oggi va bene, insomma, noi scannerizziamo tutto, e poi abbiamo quindi un film, il materiale del film disteso davanti a noi, e lo interpreteremo inquadratura per inquadratura, quindi al di là di una certa continuità, che è la cosa quasi più semplice da ottenere, è quella di un tono generale da mantenere ogni scena, in modo che sia così in armonia con quella che è la copia poi di partenza, perché noi partiamo da copie della Cineteca nazionale, che all'epoca erano state messe giustamente in Cineteca come testimonianze del film, però sono passati appunto da allora molti anni, e come si sa, le copie colori con il materiale del tempo di allora, non è che tengono poi così i secoli, quindi questo tempo passato mi ha messo spesse volte in dubbio, io vedevo sì la copia, avevamo sempre la possibilità di fare la reference, la copia su film e il lavoro che stavamo facendo, quindi la copia è stato un riferimento, è vero quella della Cineteca, però è stato molto, mi è servito moltissimo le lunghe chiacchierate che avevamo fatto con Antonioni, anche magari viaggiando in Cina, dove era un documentario e filmavamo il colore che trovavamo, però in Michelangelo c'è sempre stata questa idea, insomma che in Cina doveva liberarsi un po' della condanna del colore, per invece trasformare il colore in qualcosa di veramente creativo. Hai già parzialmente risposto alla domanda, alla seconda domanda che volevo farti, però provo a scavare ancora di più. Negli anni successivi in cui hai lavorato con Antonioni, ti parlava specificamente di questo film, che per lui era stata una grande scommessa stilistica, anche perché se non ricordo male è il suo primo film a colori, e c'è appunto quest'uso creativo di queste macchie di colore che devono rispecchiare gli stati d'animo dei personaggi, o comunque l'occhio, la fantasia del regista che appunto va contro il naturalismo a cui il colore ti porta. E poi magari ti parlava anche del modo in cui il film era stato ricevuto, perché è un film che ha sempre provocato anche ironie, la famosa battuta della vita a cui fanno male i capelli, e poi la gente non pensa che i capelli possono davvero far male. Ecco, insomma, parlavate con Antonioni di questo film in particolare? No, Michelangelo, Antonioni non è che facciamo delle conferenze, diciamo, ci metteva a analizzare il passato, però una cosa molto precisa lui mi ha raccontato, e penso che sia simbolica dell'atteggiamento che lui aveva durante queste riprese. Mi disse che aveva trovato una bellissima inquadratura dove c'era una fabbrica chimica, con i colori di una fabbrica chimica, infatti nel film si vede questi fumi, allora uscivano dalle seminari liberamente giallo-verdi, quindi non c'erano limiti dell'inquinamento, e che andava benissimo questo sfondo per lo stato d'animo della protagonista, della Vitti, però vicino c'era un bosco di un verde ipernaturale. Allora Antonioni soffriva di questo contrasto di natura e di sviluppo industriale, anche in senso negativo, e quindi chiese semplicemente di dipingere gli alberi di grigio. Naturalmente la produzione, come immagino, di fronte a una prova statale, esprimamente allora ha detto che non è possibile, però insomma insomma aveva il pregio di essere molto insistente quando vedeva una cosa da realizzare, e così gli ho detto, insomma, cominciarono a dipingere con una vernice non aggressiva per le foglie, dipinsero questo, ci mettero un pomeriggio a dipingere questa foresta, piccola foresta, e a un certo punto Michelangelo di Antunio mi disse beh, allora giriamo a Di Palma, a Di Palma mi disse guarda, perché allora c'erano pellicole a bassissima sensibilità, andava via, calava un pochino il sole, se ci poteva più girare, insomma, disse no, non possiamo girare, perché? Ma perché? Perché non c'è più luce sufficiente per girare. Giriamo da domani, va beh, giriamo da domani, insomma, molto scontento naturalmente, però dovete accettare la realtà. e mi ha raccontato che la notte, a un certo punto verso il lunedì notte, ha sentito, si è svegliato, si è svegliato da un tuono lontano, minaccioso, dopo poco tempo ha sentito le gocce di pioggia che cadevano. e siccome il sette non era lontano dall'albergo, Solius è andato davanti, è andato a vedere cosa succedeva, io immagino Antonio sotto l'ombrello, che vede, dice ho visto la realtà, cioè la realtà riprendere, la natura riprendere la sua forza, e il colore verde ritornare, la mattina naturalmente, la pioggia vi lavava gli alberi, non si poteva creare, e quindi non ha girato quell'inquadratura, però ecco, lì gli è venuta questa curiosità, di andare a sperimentare, poi quello che abbiamo fatto nel 79, a bassissima definizione, diciamo con grandi mezzi della RAE, però insomma, il mezzo che captava l'immagine era molto primitivo, il mestolo di Oberwald, proprio per dire, bene, forse in un'altra direzione della pellicola, c'è un'altra possibilità creativa, che apre appunto, grandi possibilità creative, e dopo infatti è arrivata l'altra definizione, poi è arrivato il digitale, che erano parole non esistenti nell'universo, il mondo, e purtroppo adesso, un piccolo commento, penso che nello sviluppo da allora adesso, non si sia ancora verificato, quel auspicio antonioniano, di tentare di utilizzare questi mezzi in modo creativo, non in modo più facile, in modo più complesso magari. Sì, certamente. Un'ultima cosa, Professione Reporter, che tu hai fatto con Antonioni, sembra un film in cui i colori sono più naturali, forse rispetto a Deserto Rosso, c'è invece anche lì un intervento, in questo senso, ciò che vediamo magari è più frutto della vostra fantasia, piuttosto che dei colori naturali del deserto, della prima parte, e poi di Barcellona, della Spagna, nella seconda? È un film come dal titolo, Professione, punto e punti, Reporter, che si basa così sull'idea di un reporter che viaggia, e quindi abbiamo affrontato il film così, molto giorno per giorno, senza una direttiva precisa, perché dietro ce n'era una estremamente precisa, quella che era di rifiutare l'artificio, cioè l'intervento della luce come elemento di racconto, di trasformazione, di interpretazione della scena, e i colori erano quelli che, nei sovralluoghi, Michelangelo aveva identificato dal vero, mentre stava facendo un altro film, Pane e cioccolato, proprio contemporaneamente, quasi, e quindi mi ha lasciato totalmente libero, dal punto di vista della luce, completamente, non è mai intervenuto, anche perché, me l'ha detto alla fine, volevo utilizzare anche una certa mia esperienza, che prometteva molto bene, perché era così, mallevatrice di errori, ecco nel film ci sono, dal punto di vista anche dell'esposizione, molti errori, ecco quegli errori sono quelli che, secondo lui, facevano il film, quelli di cui aveva bisogno. Però adesso ce ne devi dire almeno uno, la prossima volta che vediamo il film, vogliamo poter riconoscere un errore, che però ad Antonioni piaceva. La sovraesposizione di certe scene, anche nel fondo nel deserto, insomma, io ero preso un po' così, ho cominciato il film senza informazioni, con una troupe che non era la mia troupe, e questo mi metteva in una certa difficoltà. Questa difficoltà era quasi stata creata ad arte, da Antonioni, perché io non mi sentissi comodo nel mio ruolo. Infatti mi ha detto, guarda, questo film, così come lo stai facendo adesso, fra cinque anni non lo potrai più fare, perché conoscerai talmente trick, elementi, che tutti voi conoscete come direttore della fotografia, un po' esperti, per cui non sarei più così sinceramente ignorante, tra virgolette. E quindi ecco, insomma, abbiamo dovuto un po' recuperare in qualche esterno, insomma, una visibilità, diciamo, perché la mia sovraesposizione, tendenza a sovraespore, che mi piaceva molto, era lì, anche esagerata. Grazie mille Luciano, e non perdete l'occasione di vedere il Deserto Rosso tutte le volte che potete. Grazie. Bene, grazie a voi. Grazie. Grazie.